Prendere o lasciare Elio Calderini non è certo un giocatore da mezze misure, finora il suo impatto con l'Arezzo è stato eccellente, poche le partite dove è accusato il segno meno e tra queste spicca proprio quella del Berdicchi contro il Tresti, da per il resto sempre propositivo e capace di fare la differenza. Estro e Fantasia fanno parte del suo repertorio di attaccante atipico, senza un ruolo ben definito ma capace di inventare qualcosa sempre di importante. Domenica gol a parte, battere i rigori per lui sembra una formalità, ha fatto di tutto, soprattutto si è presa in carico la squadra che nei primi 15 minuti sembrava stordita dalle folate del Rieti. Poi il continuo uno contro uno con l'avversario, la capacità di creare la superiorità numerica, la voglia di segnare ha fatto il resto. Ma il numero che ha lasciato i pochi presenti allo stadio a bocca aperta è stato un sombrero in corsa, un numero da circo inusuale per una partita di calcio, da altre platee. Resta un rimpianto, Calderini lo avremmo visto bene con qualche anno di meno, tante volte è stato vicino all'Arezzo in passato dopo aver mosso i primi passi da calciatore proprio con la primavera a Maranto ai tempi di Ranocchia.